C'è un finanziamento di 1 milione 100 mila euro per il ripristino e la riparazione sul viadotto del fiume Mingardo nel comune di Centola, la manutenzione del viadotto Iandolo nel comune di Pollica, la riparazione e manutenzione del viadotto sulla strada provinciale 161 sul fiume Alento nel comune di Casalvelino per 500 mila euro, tra i lavori finanziati per il triennio 2021-2023 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. Si tratta di alcuni degli interventi previsti nel piano di lavori per complessivi 125 milioni di euro presentato questa mattina in una conferenza stampa dal Presidente della provincia di Salerno, Michele Stianese, insieme al parlamentare salernitano del PD, Piero De Luca e il delegato alla viabilità Carmelo Stanziola, sindaco di Palinuro. L'elenco è lungo e comprende messe in sicurezza di strade e ponti un po' in tutta la provincia che fa seguito al monitoraggio compiuto dal governo in tutta la nazione dopo il crollo del Ponte Morandi a Genova. La conferenza stampa è stata occasione per il Presidente Stianese anche di anticipare una notizia importante per l'ente, è stato infatti approvato il piano economico finanziario che consente alla provincia di Salerno di compiere un passo importante per uscire dal dissesto finanziario. Abbiamo finanziato il ponte sulla 104 tra Cassè San Giorgio e Roccapiemonte, un ponte tra la provincia di Salerno e di Napoli, in comune di San Valentino Torio. Abbiamo finanziato il ponte ad Ascea sulla 269 a Pollica e soprattutto sulla 161 a Casalverino, un altro ponte che ha bisogno di interventi di messa in sicurezza. Ma poi abbiamo ovviamente con questi fondi finanziato il ponte di Gaiazzano sulla SP51 tra Padula e Teggiano che purtroppo è chiuso da alcuni mesi e lì tutte le prove tecniche che abbiamo fatto ci indicano che dobbiamo fare abbattimento e ricostruzione. I nostri tecnici hanno già redatto il progetto esecutivo che andrà in gara nelle prossime settimane. Intanto Presidente, lei ha anticipato, anche se non è ancora ufficiale, una buonissima notizia per la provincia che compie un passo fuori dal possibile dissesto finanziario perché è stato approvato il piano economico finanziario. Sì, una notizia che ufficializzeremo ma che possiamo già dare perché il 30 marzo si è riunita la COSFEL, la Commissione per la Stabilità Economica e Finanziaria degli Enti Locali, che ci ha praticamente approvato il piano di riequilibrio economico e finanziario che la provincia approvò nel 2018, che io come nuovo Presidente ho dovuto modificare, ho dovuto aggiornare. In questi tre anni abbiamo presentato tantissima documentazione per dimostrare che la provincia si sta sacrificando per avere maggiore equilibrio e maggiore stabilità. Il piano di riequilibrio è finalmente stato approvato dal Ministero degli Interni, ora andrà solamente alla Corte dei Conti per una verifica finale, ma ormai possiamo dire che con il lavoro fatto certosino in questi anni stiamo portando la provincia in una nuova dimensione. Un piano forse tra i più ampi mai realizzati negli ultimi decenni che possiamo mettere in campo grazie all'efficienza della provincia di Salerno, del Presidente Michele Strenese, delle strutture amministrative e che consentirà davvero di rafforzare il sostegno alle aziende, che vogliono investire qui da noi, aiutare lo sviluppo dell'aeroporto che aprirà a breve, rafforzare le presenze turistiche e soprattutto creare maggiore coesione in una provincia che ha le dimensioni di una vera e propria regione. Per cui siamo molto contenti se questo è possibile perché abbiamo una provincia che lavora con efficienza, con qualità e competenza e ci consente di portare avanti anche a livello nazionale una battaglia affinché nel prossimo testo unico antilocali le province possano tornare ad avere quel ruolo centrale dal punto di vista di competenze, di prerogative e di risorse come coordinamento per investimenti nel territorio, soprattutto legate all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza. Per cui è una giornata importante, la provincia di Salerno si avvia davvero a una nuova stagione rivoluzionare dal punto di vista di investimenti infrastrutturali. Subito dopo la conferenza stampa c'è stato anche un sopralluogo dell'Onorevole Piero De Luca e del Presidente della provincia di Salerno Michele Stianese presso l'Istituto Superiore Regina Margherita di Salerno. Il senso rivoluogo è dare un segnale di attenzione a un istituto che è importante nella nostra città, alla quale la provincia di Salerno insieme al Comune hanno dedicato grande attenzione e al quale sono destinate anche risorse per la riqualificazione ottenute grazie a finanziamenti nazionali. Dobbiamo impegnarci affinché le province, i comuni, possano avere sempre più personale e sempre più risorse adatte a mettere a terra i progetti di investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Residenza. Questo è l'obiettivo prioritario che abbiamo nelle prossime settimane.